Il terzo classificato è Eugenio Cuppellini di questo Isobdex 4 che si è svolto a Nova Gorica. Eugenio, com'è andato il torneo? E' bene, siamo arrivati terzi, non ho giocato benissimo all'ultime mani, si poteva fare meglio, però sono contento uguale. Abbiamo visto comunque, seguindoti dalla diretta streaming, che Di Carte ne hai vista abbastanza durante la metà del torneo, almeno a StoK 5 volte. Mi sa che sei ancora. No, no, sono tre volte, potete andare a vedere la registrazione. E come mai? Non c'è stata action più di tanto. E come mai? Come mai hai deciso di metterle tutte con un asso ed un kicker così basso? Speravo che passasse, rilanciava tutte le mani, ho detto male che vada, sono al 30. Stavo al 30, è andata male. Va bene, Eugenio, ti ringraziamo e ti rinnoviamo i nostri complimenti per essere salito sul podio al terzo posto. Grazie mille, torna a trovarci. Grazie mille.